Domenica 16 giugno, ben trovati all'appuntamento con l'edicola di TRMH24, lo spazio dedicato alla lettura dei quotidiani. Iniziamo dalle prime pagine dei nazionali Repubblica e Corriere della Sera. Corriere della Sera, l'Italia ha conti di più in Europa, meloni sull'aborto, polemica artefatta, nomine, vertice, von der Leyen, Scholz-Macron, tensione con le opposizioni sulla rissa in Parlamento, giustizia e nuove norme, l'ANM è pronta allo sciopero, l'unione che ci serve, l'articolo di Ferrera, e poi ruini il no a Scalfaro, così difese Berlusconi, un approfondimento sui segreti del potere. Per le riforme parole e metodo usati in Puglia, premiato e regole, l'articolo di Walter Veltroni, il metodo che diventa sostanza importante in politica, la presidenza italiana del G7 ha ottenuto al netto di enfasi eccessive, significativi risultati diplomatici nel vertice, svoltosi in Puglia. Di spalla il ritorno di Kate, il sorriso in pubblico che è una speranza, Londra la principessa il tumore, la vediamo in foto, la principessa alla cerimonia di Londra. Foto notizia dedicata all'esordio, debutto della nazionale di Luciano Spalletti agli europei, Azzurri buona la prima dopo la partenza shock, sotto di un gol in 23 secondi, la rimonta firmata Bastoni e Barella, ecco appunto la foto dell'esultanza di Barella. Il summit per la pace Zelensky, passo giusto in Svizzera, questo summit assenti Russia e Cina, Milano per quanto riguarda la cronaca, rogo, Antonio morto per salvare i genitori, l'incendio nel palazzo e poi in taglio basso Salis, nove ore d'auto, felice a casa, dall'Ungheria a Monza. Passiamo ora alla prima pagina di Repubblica, vediamo il titolo principale, Unione Europea battaglia sulle nomine, questo il dopo voto, i 27 leader si vedono domani, no dei socialisti all'alleanza con Meloni e di estrema destra, crepe nel PPSU Ursula, la Premier chiude il G7, l'Europa riconosca il peso dell'Italia e sulle risse in Parlamento, provocati dall'opposizione. Vertice a Lucerna, gli ucraini porteremo un piano di pace ai russi. Schlein a Roma qui per difendere i diritti LG, BTQ, questo per quanto riguarda il Gay Pride. Ancora leggiamo sempre in fotonotizia, azzurri, buonissima la prima per quanto riguarda, come detto, il debutto con la nazionale che ha battuto 2 a 1 l'Albania agli europei, in taglio basso, violenze alla collega, sotto processo un tuffatore olimpico, poi febbre nera per la Francia malata d'Europa, antitrust. Bruxelles accusa Apple, sta violando la concorrenza. Passiamo ora alla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Vediamo il titolo principale. Puglia, borgo globale, meloni, altro che pregiudizi, un'accoglienza oltre le aspettative, congedo tra pizzica e panzerotti, no G7, corteo e polemiche. La rissa in aula e leghista che si credeva a Cassius Clay, l'analisi di Bepi Martellotta, intervista di Emiliano, noi terra di inclusione e lotta alle mafie. Questo per quanto riguarda anche il commento sul G7 appena concluso a Borgognazza. La iosa parlamentare e quella alla barese di spalla, articolo di Michele Mirabella. E poi il caso Visconti, campanello d'allarme per il futuro, fotonotizia dedicata ancora una volta agli europei, con l'Italia che ha iniziato questo cammino con una vittoria, battuta l'Albania per 2-1, qualche sofferenza di troppo nel finale. Il rompe l'estate, spiagge già piene, arriva l'onda del caldo africano al mare, il 60% dei turisti. In taglio basso le altre notizie che arrivano dalle province. Bari fanno esplodere il banco, Matt, ma i ladri fuggono a mani vuote. Taranto, sparatoria al tramontone per uno sgarro in manette, un 37enne a Gallipoli. Primo nido di tartaruga e a Sant'Isidoro liberate in due. Le altre notizie locali con il Corriere del Mezzogiorno e Repubblica Bari. Corriere del Mezzogiorno, saluto shock per il finale del G7, corteo degli antagonisti con la foto della Meloni impiccata a testa in giù. Sangue sui volti invece dei leader. Marciano in mille, Fasano deserta come ai tempi del Covid, dura censura del sindaco nei confronti dei manifestanti. Borgo e Ignazia, luogo finto, dell'olio divide politici e artisti. Resort, Borgo e Ignazia è solo un luogo finto. L'atto di accusa di Nancy dell'olio divide politici e artisti. Pugliesi, Bonelli lusso e falso, Amati prima a Fasano non c'era nulla e Albano scuote i politici. Ancora continuiamo a leggere le altre notizie. Politecnico da Primato, nove laureati su dieci trovano subito lavoro al top in Italia dopo la magistrale. Evassori fiscali in casa, vacanze, sedici denunce. Vediamo in questo caso però le foto del G7, della protesta dei manifestanti con Meloni a testa in giù. Anche un Pulitzer nell'estate di Coreia, l'omaggio a Simic. In un festival ricco di eventi, Lecce si prepara ad un pieno di teatro in taglio basso. Per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda il Bari, accordo fatto di Cesare Porta Longo al Bari e Bagua che dice l'allenatore giusto per ripartire. Repubblica Bari, vediamo il titolo principale. L'arrivederci della Puglia ai grandi, Meloni a bocca aperta per ciò che hanno visto. Torneranno, l'auspicio della Premier, affasano la manifestazione poi anti G7. Laureati assunti entro un anno, Politecnico primo Ateneo in Italia. La forgia, avanti con Leccese, le nostre idee per sostenerlo. Questo per quanto riguarda la politica e soprattutto il prossimo ballottaggio tra i due candidati sindaco di Bari. L'intervista al penalista a una settimana dal secondo turno. Lavorava per Bari un interesse comune, l'appello dei docenti che sostenevano i due candidati. Una società di esperti in ballottaggi per quanto riguarda Romito. Lì di Rivoluzione Tar ha capitolo concessione stesa fino al 2033 il sistema Sandrino funzionale voti di Mauro Di Noia. Questo l'ha deciso il Tribunale del riesame sul caso ovviamente voto di scambio. Poi Albano, in taglio basso, vivevo in un cantiere ma mi spacciavo per impiegato un approfondimento. Ritratti di vita, questo è il titolo della rubrica. Allora ci spostiamo ora su altre notizie locali. Edicola del Sud, Edicola Sport e poi diamo un'occhiata per quanto riguarda lo sport anche all'inserto della Gazzetta del Mezzogiorno. Iniziamo con l'edicola, l'edizione barese, il Food Security del G7 porta il nome della Puglia. Meloni esalta le qualità di un territorio avvocato all'accoglienza e al dialogo. Photoshop della Premier ritratta testa in giù dal coordinamento dei pacifisti. Economia, conti in deficit. L'Unione Europea penalizza il Sud. Bari, la tecnica dei furti in spiaggia. Queste sono le notizie di spalla, leggiamo anche l'inchiesta, pedofilia, blitz anche a Foggia e a Potenza, ballottaggio, trattative aperte. Poi si parla di sanità territoriale, list d'attesa senza fine, sitine proteste al Policlinico e davanti ai CUP. In taglio basso, il caso, gli editori di Telebari sono pieni di debiti con il fisco e raccolta firme coi siti referendari, esulta la CGL. Ci spostiamo sull'altra edizione dell'edicola. Vediamo appunto che si vengono ribaditi gli stessi articoli. Edicola Sport, in serie D, Rinaldo Zerbo fa sul serio, vuole il brindisi. In serie B, l'ex Ebagua, ex giocatore del Bari, garantisce per Mister Longo. In serie A, Morente, Pierret, primi arrivi in casa Lecce. Passiamo ora a guardare più da vicino le pagine sportive della Gazzetta del Mezzogiorno, che parla, in primo piano c'è la vittoria dell'Italia, al debutto in questi europei 2024 contro l'Albania. Quindi l'Italia ha raggi di luce, partenza da incubo, poi gol e anche sprazi di gioco con in primo piano le foto dei gol, in questo caso il gol di Bastoni, il gol del pareggio e poi l'esultanza di Barella, il gol del sorpasso nei confronti dell'Albania. Su l'edicola Sport invece troviamo, vediamo la prima pagina con l'ex Biancorosso Ebagua, battezza Longo Moreno e tanta roba per il Bari. E vediamo appunto il tecnico Moreno Longo in foto. E ancora altri articoli in taglio basso, Lega Pro, Capuano, Giove insieme per un grande Taranto, Serie A, Tete Morente, grande attesa a Lecce e in Serie D il tecnico Danucci dice Sì alla Fidelis. Ci spostiamo ora sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo il titolo principale. Dazzi, come sarà la nuova battaglia? Mercati e commercio, quindi il tema. Stati Uniti e Unione Europea provano a contrastare l'aggressività dirigista cinese. Pechino, contrattacca sull'agroalimentare, la Germania prova a trattare. Autolesionismo globale nella guerra mondiale delle tariffe, non ci sarà nessun vincitore. E poi Hyundai India, quotata a Mumbai ed è subito record. E altro articolo concordato, sconto fino al 30% in caso di sospensione dell'attività partiteiva per eventi eccezionali, può scattare la riduzione della richiesta del fisco Confindustria, Marchesini e Sindacati. Accordi insieme, il Governo ci ascolterà. E con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Grazie per averci seguito. Restate sintonizzati con noi per tutti gli aggiornamenti su Puglia e Basilicata.